il mercato è qua il centro commerciale vai 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 un ritmo e questo ci mancia un cucchiaio di mangiare e il pane ci zuppava di sopra il sol una cosa a prestare si chiede dentro di l'arte si che quell'attimo che lei si assenta per che cosa di questo sempre vendato si tira sui pantaloni alzati per favore e se no si tira sui pantaloni e poi si diceva non scurrego e ti dovi ma hai fatto facciò dice no come no e intanto non ci indovini ti sbendo gli leva la penna aveva invitato tutti i panetti comunque la costruzione ancora molto amante per la casa lo spazio che occupa è zero ora la foto la foto la sita la foto è sempre la foto quindi viene è la foto un'appunto di Grazie a tutti 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 Grazie a tutti